Scattano le manette per sette esponenti, affiliati e prestanome del clan Moccia. Parte così una maxi-operazione condotta dalla squadra mobile di Roma e dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza nei confronti di un'organizzazione operante nella capitale, nel settore ortofrutticolo e delle mozzarelle. Le accuse nei confronti degli indagati sono a vario titolo quelle di trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni a utilità di provenienza illecita, tentata estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza con l'aggravante del medoto o mafioso. In particolare l'attività investigativa ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale, promosso ed organizzato da Luigi Moccia, di fatto gestore di diverse attività imprenditoriali, attive nella capitale principalmente nei settori della distribuzione di prodotti lattiero caseari e ortofrutticoli. Lo stesso Luigi Moccia, che malgrado avesse eradicato le sue attività a Roma già nella seconda metà del 2010, ha sempre mantenuto forti legami con il territorio d'origine, riuscendo ad inserirsi così anche nel settore turistico ed alberghiero.